Daniele è il nostro vincitore del contest perché siete il più veloce a rispondere al nostro numero Whatsapp. Daniele tu pensi che considerati i ripassi falsi delle altre squadre il Palermo, la promozione in Serie A è garantita? Assolutamente no, la Serie B ci insegna come sia un campionato abbastanza lungo e pieno di insidie, però senza dubbio questi passi falsi possono essere d'aiuto per la classifica finale e comunque l'aiuto già viene dentro all'interno della squadra con gli Achini che è uno abbastanza pronto a questo obiettivo. Sicuramente non garantita, però è notevole che comunque il Palermo sia una squadra sicuramente più favorita rispetto alle altre, ancora diciamo c'è un po' da soffrire. No, ancora la promozione non può considerarsi garantita perché non c'è nulla di matematico e la squadra non deve assolutamente basarsi sui risultati delle altre, ma deve pensare semplicemente a vincere, soprattutto in casa, sperando così di poter ottenere la promozione il prima possibile. Penso che sentirsi già in Serie A in questo momento sarebbe l'errore più grave che si possa fare, ci sono troppi punti sul piatto ancora e sebbene la squadra sia buona non c'è un distacco tale per il quale non ci possiamo sentire già in Serie A. Sono stati fatti già dei buoni progressi e si può pensare in positivo, però sempre con la testa alla prossima partita. Grazie a tutti.